Buongiorno a tutti, sono Mario, sono un istruttore della Scuola di Vela di Roma a Grallasco e sono anche il responsabile del corso regata. Noi come Scuola Vela crediamo molto nei corsi regata perché è un approccio bello per vivere il mare d'inverno e soprattutto a livello didattico è molto importante, gli allievi comunque hanno una crescita e vista durante gli anni è molto importante. Quest'anno per la prima volta come scuola abbiamo partecipato alla regata costal che è un po' più soft rispetto al bastone quindi anche gli allievi hanno modo di fare una bella navigazione, usare le vele e vivere il mare d'inverno che i colori per le situazioni meteo in sicurezza dà molto e tutto questo poi se lo ritrovano a fine campionato quando appunto inizia la bella stagione e durante le crociere estive. La barca Gigas è un gran soleil 43 con a bordo l'armatore Alberto Tamantini, una barca di grandi prestazioni, molto comoda, grande e loro sono l'equipaggio, qui abbiamo Gianfranco, Guido e Giuseppe. Si alternano nei vari ruoli e così hanno modo di provare i vari ruoli a bordo quindi sia il timone che la randa, il tailor e abbiamo visto quest'anno per la prima volta il gennager grazie appunto al corso costal e non so sentiamo loro che cosa gli è sembrato fare questo tipo di attività. La vela d'inverno ha un sapore sicuramente diverso da quello che può essere d'estate perché il mare è tutto per noi e quindi ce lo possiamo godere fino all'ultima goccia e all'ultimo bave di vento ed è stata un'esperienza fantastica, sono molti anni che frequento la scuola che è una gran scuola che è molto orientata sul discorso della sicurezza e anche sulla tecnica della barca a vela. Quest'anno abbiamo partecipato, il prossimo anno distruggeremo tutti. Quest'anno è la mia prima esperienza al corso regata e sono tornato dopo otto anni alla Gran Lasco e sono molto felice di aver incontrato persone molto competenti. Grazie.